sarà un grattamare sicuramente motivato con ragazzi giovani e con altri ragazzi di una certa esperienza siamo riusciti ad ottenere un mix diciamo tra virgolette di giocatori esperti che già l'hanno passato con alle spalle anche carriere importante perché sono giocatori che hanno fatto la d la c quindi importante e poi ci sono dei ragazzi giovani che del nostro vivaio che già anno scorso tipo calvarese matteo cameli che hanno giocato già anno scorso hanno disputato delle gare in eccellenza a questi sono integrati 5 6 giocatori del 96 allievi e juniors che anno scorsi sono ben comportati adesso vediamo come rispondono alle prime sollicitazioni diciamo perché certamente il campionato eccellenza è un campionato molto diverso però io sono fiducioso sono ragazzi bravi volonderosi quindi penso che che possono possono fare bene e possono integrarsi nella rosa dell'eccellenza fermo restando che la coppia d'attacco l'ha costruito il direttore sportivo io quindi chiaramente io in un primo momento in un primo momento stavo vedendo anche altri giocatori perché non pensavo che rosa per una questione di budget per una questione di altri motivi insomma che potesse venire a grotta mare e quindi mi ero riondato su altri giocatori poi a un certo punto invece sto ragazzo ha dimostrato molta disponibilità l'ho visto ci ho parlato più di una volta e l'ho visto molto motivato voleva far parte di questo gruppo qui perché conosce i ragazzi quel punto lì anche ho parlato con il mister certamente siamo riusciti a portare a grotta mare un giocatore di qualità e con ludovisi con ludovisi farà farà coppie con ludovisi sulla carta sulla carta è una coppia una coppia da 35 gol però poi è sempre il campo che dovrà dare il responsa non è detto che sia sempre così facile perché delle volte insomma magari uno cerca il meglio poi nel campo durante le gare ci sono tanti fattori tanti calcio è fatto di episodi bisogna vedere però ripeto com'è costruito com'è fatto come come abbiamo fatto sicuramente una coppia attacco di primo livello ecco sì ma questa è la politica della società perché andando avanti sarà sempre sempre così anzi sempre di più perché altrimenti non non si riesce ad andare avanti ripeto perché le società devono curare il settore giovani crottamare lo fa da tanto è sempre con maggiore attenzione ecco noi abbiamo la fortuna qui di avere tanti ragazzi perché abbiamo oltre i 230 250 ragazzi che frequentano il pirani e tra questi quindi avendo una base ampia sicuramente sono dei giocatori che possono fare a caso nostro negli anni ogni anno insomma noi l'importante è che io dico sempre questo ogni anno riusciamo a portare tra virgolette quei 45 elementi per la prima squadra è un bene per loro e anche è anche per la per la società poi quest'anno con l'arrivo anche del nuovo responsabile settore giovanile vecchiola che non non ha bisogno di presentazione perché un ex professionista poi ha giocato oltre ad essere un amico insomma l'ha fatto anche ad ancona bene professionisti responsabile della scuola calcio quindi ci auguriamo insomma di migliorare sicuramente dovremmo migliorare ecco